e buongiorno a tutti sono sempre ubainety e qui con me oggi c'è creepy stories ciao a tutti mamma mia ragazzi siamo ritornati quest'oggi con un gioco abba mi chiamava creepy ovvero tutti dal primo all'ultimo raga veramente come potete vedere qua dall'introduzione abbiamo tutti i personaggi diciamo più famosi delle varie che passa che girano sul web tra cui abbiamo lost silver e gold di lost silver e poi abbiamo anche i ghost in verita live veramente ce ne sono tantissimi esatto ghost no qua non c'è però nello cioè nel gioco c'è posto ma tipo i tasti allora non lo so che saranno sempre invi io le precette con questo penso ce lo spiegheranno qua comunque facciamo un new game con invio wow ok ok scegli un personaggio classic classic gameboy color red gameboy advanced red hash from a no io classi crei color red vabbè allora io faccio quello advanced dai esatto dai io avrei scelto anch'io quell'altro allora qua ci sono bellissimo bellissimo ci sto capitolo 1 capitolo 2 io farei il capitolo 1 però a potremmo dividerlo in in sezioni ovvero questo risultato raga parleremo del capitolo 1 giusto sì poi gli altri troppo ok allora puoi usare anche z tra l'altro notare il sottofondo tipo è uno spazio ci sta un voto ok entriamo speriamo di non spaventarci troppo come dico consuetamente in ogni mio video crepi e andiamo nel capitolo 1 ovviamente poi togli infarti esatto che cosa sta succedendo ok no troppo rosso non va bene ti sei svegliato col verso di piccolo di un pikachu oddio c'è senti la musichetta bellissima sì 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 è tipo assomiglia a quella l'hai mai visto death note te sì sì non è quella sì sì è quella lì che poi ritornarlo parte no non è quella è diversa non è quella no è un'altra ah no è vero ok poi in pratica abbiamo un incubo ci svegliamo per vedere cosa succede bello però è minchia la grafica ci sta un botto ci sta fatto da dio allora nelle ceste io ho trovato delle pozioni e robe così dove le trovate no c'è allora riva con l'herbe hai notato nel caso che c'è un accogliente strisce di sangue ti ho visto bellissimo che ci sta anche il sonoro è sì per ora direi che rispetto alle aspettative esatto niente andiamo nella strisce di sangue insomma vediamo che succede diciamo oddio il slot no guarda che cosa è successo a tutti quanti io provo a entrare al libro esatto ma sono scheletri questi qua per terra sì eh sì 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 madonna l'apocalisse è passato ok sono è passato la leggenda no comunque abbiamo davanti giù perché è tutto chiuso qua eh eh sì ma avanti si intende giù no 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 io sono andato giù anche io infatti hai nuotato fino a palletà va bene cioè noi mettiamo così fino a palletà come è stata distrutta bello dai senti la team la host mamma mia raga per ora si sta no c'è pure il pochino la casa in fiamme no ma raga bellissimo la mia vecchia casa io provo a avvicinarmi anche io mamma è ancora lì dentro devo salvarla oddio lo slender porca troia hai visto sì sì è già morta tua madre chi sono sei da dove vieni sono che sono that will be come si sono fatti di merda non si leggono infatti oddio sono un uomo per essere 8 pagine no cazzo dobbiamo trovare le 8 pagine giù allora sì allora portale da me e potrei avere il tuo pikachu ok allora entra a casa della sti desi della sorella di gary ok è praticamente porca puttana no dai non puoi urlare così che cazzo vaffanculo ci censurano il video che io ho capito che cazzo dai leva sta immagine è orribile che schifo quindi non è una pagina quindi questo che schifo prendere lì è sparito lo slender no raga devo fare devo farlo screen però perché è una roba epica cazzo ma è bellissimo ci sta di brutto è andato via però e quindi ma cosa dobbiamo entra entra nel laboratorio ok ma cavolo ha fatto una cazzata praticamente se vai dallo slender si rifà tutta la scena è infatti si aspetta che devo rifarla tutta poi arrivo sì 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 si 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 facciamo tutti e tre tutti e tre i capitoli non me ne c'era un cazzo questo tipo è ma tipo nel laboratorio si può entrare sì ma non c'è niente apparentemente no ci sono solo schede di robe del genere no che cosa è successo qua ah non c'è niente no ma scusa e ma dove andiamo però e a destra vai a destra a sperare c'è un corridoio si ho aperto il menù aspetto come si apre il menù a con x vero e per uscire dal menù come si fa però cos'è skill è sempre x premi sempre x ok è posto allora ah c'è un percorso ignorantissimo sull'acqua andiamo vaffanculo cazzo o piove wow no ragazzi sto troppo sto gioco è bellissimo i tuori tuoni ma anche a te ha fatto il topolino con gli occhi rosa vero si è stato con la parma che mi sta venendo caldo da dall'ansia ma che sonoro pazzesco ma che sonoro spacca cazzo aperto il menù allora niente raga abbiamo avuto un mini problemi di lag adesso possiamo continuare ma ma non finisci più il suo percorso chiesto qua c'è un cartello add to date c'è un professore forse è ok questo oh chi è professor ok ok you alive la sei vivo che cosa è successo a palet town ma come benvenuti bene questo 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 sta rifacendo l'introduzione di un uomo i nemici red what happening cosa hai fatto è reale sorreale eccolo eccolo è morto come tua madre che tu pikachu e la madonna ma non aveva promesso che se trovavo le pagine bastava è ma non c'è ma c'è un cuore a forma oggi c'è c'è il sangue a forma oddio c'è tipo c'è il maestro muten un forziere chi vai giù c'è tipo il maestro muten c'è la testa del maestro muten no cos'è bella stac mamma mia questa rpg prima la pokeball cool a pokeball what's it cos'è successo allora ed remember me ricordami cosa sta succedendo io ho tenuto un bulbasaur non so te un bulbasaur con 1339 di hp anche io no ma cosa c'erano già prima gioia e allora che cosa abbiamo ottenuto beh io provo a parlare a mutano aiutami sonic.exe spunta la jams case poi la tua anima e se vai giù è a spesso parlando al muten mamma mia togli la tua anima che figata tu sei il prossimo l'hai visto sonic oddio si si ma con quale sonoro con quale host ne è metal ignoranza vai giù no jeff wussier no ti prego oddio andiamo giù io andrei giù velocemente no 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 non puoi farmi questo non puoi farmi questo che c'è già dei killer nonchia con la cola con l'acqua rosso sangue cos'è di raiare di merda se avete capito bene e faremo un episodio a video perché raga veramente capitemi che è fatto da dio cioè veramente spettacolare comunque c'è una torre entriamoci no giusto vai dentro dentro ah ma è la torre è la torre sprout perché io posso passare attraverso il palo per te che sto regolando un attimo l'audio come è attraverso il palo è vero anche io aspetta per scendere come si faceva ah da dietro è vero è da dietro no non si può vivare bene non si può scendere forse ci sarà un altro accesso ma qua non si può aspetta no forse non è ancora senti la ossa che bella che c'è qua dentro benissimo forse non è ancora il momento fra forse si è da no infatti non si può e non possiamo neanche uscire giù eh oh cazzo c'era giù anche te non possiamo più uscire no aspetta cosa è successo ah giù giù ho trovato allora vai la vedi la crepa in alto si la crepa si mettiti sopra la crepa si mettiti orizzontale e schiaccia la freccetta giù hai capito mettiti allora come se stessi guardando gli iscritti diciamo così si si e poi ed entra schiaccia z hai fatto io sono entrato ah ok si anch'io perfetto merda cos'è sto schifo un labirinto ma it's runner ci stiamo a fare allora si comunque è troppo bello sto gioco porca tonia chi l'ha scoperto chi l'ha scoperto ovviamente cosa si o no aspetta aspetta fai quattro volte no 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 ho fatto no no game over ma come ma che cazzo mi hai fatto fare ma no e mo no dobbiamo rifare tutto no che è un attimo ma fa culo sempre si dobbiamo fare niente un secondo ritorniamo al punto di prima a tra poco raga rieccoci finalmente abbiamo salvato anzi risalvo di nuovo qua davanti almeno ok ok io ho fatto sì quindi oh merda yes ma tipo un remake di lost silver esatto in questo caso sì allora vediamo è diventato tutto oscuro tutto buio non mi piace ah guarda la gente cosa che you tu noi siamo tutti dannati perché oh no you are going to oh you are going to non sarà sicuramente died infatti è died che face slenderman aspetta io sto parlando io sto parlando tutta la gente we are all damned ah c'è un forziere qua why potion we the ones ok io ci sto girando un po' per la city per la city chi sei tu perché hai visto il video di ggstd tube sugli insulti è proprio del genere chi è questo scheletro oh c'è un pc qua aspetta perché io sto parlando uno scheletro fra ma siamo nello stesso posto si 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 io sto girando per la città c'è una croce giù in fondo giusto si sembra tipo una roba satanica boh che è cos'è sta roba welcome to your worst nightmare venuto nel tuo incubo più peggiore no più peggiore non si può sentire però come si dice non si dice no è vero nel tuo incubo è peggiore vabbè lasciamo che cosa è successo è una pagina oh buono si mica 1 in 13 minuti ottimo è bello mi sa che dobbiamo andare sinistra che cosa sta disegnando quel bambino ma chi c'è sonic eccolo io sto avanzando pur pur little bini vabbè si la in pratica lo sto c'entro a fogare sono sonic come aspetta non sto capendo neanch'io ma bastardi ti uccido ti ammazzo e scappa ma il bambino cosa fai eh no poi questa musica è il sottopone spero non ci sia copyright però eh spera no cazzi no provai avanti no no dai sta roba qua è satanica però è satanissima allora proviamo a entrare si io ci parlo ciao prima no prima scrivi perché no è una roba epica c'è dai per favore non può essere ok ok svegliati ok red no 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 wake up red red stop ferma chi uccidilo ah non l'ha fatto ho sbagliato ok è morto ok che bellezza bello in piedi ok qua c'è un altro biottolo insomma si pulito pulito minchia sti tuoni ho rotto un po' il cazzo però eh perchè non c'è più musica esatto non mi piace c'è una po' esatto perché c'è un cristallo la esatto che sta fluttuando a me è partita il margaret delle grogiar minder il bosco smeralde charlie con 730 ps giustamente what is this play song don't play song play song play song che cazzo è oddio cos'è sto schi- cos'è sto aborto giù che cazzo è cosa è successo ma dai ma cos'è un concerto metal ma ci sei si eh sono un po' scioccato giù guarda in alto a destra c'è jeff the killer si aspetta vorremmo andare a parlargli no cazzo allora io tornerei indietro non so a te si 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 tornami indietro parla il cristallo exit exit devo salvare ficaci ah questo qua penso fosse mister egg però non avessi a sud c'è dell'erba aspetta io salvo io salvo qua perchè hai fatto che è sempre meglio salvare si che c'è ragione si che c'è ragione si che c'è ragione ah qua c'è dell'erba in tria dell'erba allora aspetta che cerco il po' con c'è un cartello ah ok la spam si infatti allora cos'è sta roba oddio è una petrolina ma non si capisce è pieno di transizione non si capisce un cazzo ne tu nero no non vedo un cazzo io non vedo un cazzo no io sono in toria di jumpscare qua merda non vedo niente qua eh giù qua vi c'è una cosa strana ho trovato una granata cosa ma dove ma io sono cosa è successo cioè no come little children come with me ma io sono sempre dritto giù eh cosa è questa roba una granata così a caso prosegui vai io ti aspetto eh proseguo dove avanti indietro avanti avanti vai avanti cos'è ipno please don't cry if no wouldn't earth fly b3 ah è la del refugio rocket dell'ide out si è la ipnos lullaby questa no questa è l'ide out no questa qua quella che sta dicendo lui come down in my cave oddio ipno a 61 sei serio cosa dobbiamo sfidare ipno che cazzo un porca troia che che è morto lanci la granata ci provo l'ho ucciso l'ho ucciso con la granata sì ok l'ho fatto mica che boh è morto penso sì credo ma il mio era il 59 almeno il 60 vabbè è sparito comunque voglio degli scheletri molto belli voglio andare avanti nei capitoli cazzo si infatti più che altro come l'impressione che sarà un gioco infinito questa si infatti anche perchè sarà lungo eh infatti ok 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 una poca sono tutte vuote oh un'altra pagina perfetto un'altra pagina qua mi sa che in questo capitolo dobbiamo finire tutte le pagine sì qua c'è scritto inferno qua ci sono tipo un botto di scheletri eh sì in effetti vabbè andiamo su sì dai al massimo facciamo episodi lunghi tanto cazzo eh esatto tanto comunque c'è alla fine ci si stanno perchè è stracoivolgente eh infatti cioè io mi sono rotto un cazzo un attimo allora qua io c'è tipo una stagionata cos'è sto morto ma che cazzo però era bella con l'immagine di Pikachu ci stava è questo è quello che volevi eccolo qua ah che palle ma ne aveva raccolti due pagine però sì quindi ci rincontriamo di nuovo Slenderman indovino un po' ho ottenuto due delle tue dito un fiore cos'è un fiore perché è un fiore mi sono perso mi sono perso il passaggio sto andando in giù eh io vedo oh ma questo qua è un faro guarda com'è fatto da dio pokemon tower aspera qua c'è una porta giù è la pokemon tower questa aspera c'è una porta qua però no non c'entra niente no pokemon tower aspetta entriamo nella pokemon tower ok diamo dio mio ecco solita canzone cina è mancabile parliamo con questi qua se non vuoi ah se parli però che più chiudere mai maruak no ma cosa guai di team rocket kill my pikachu ma cosa volete possono degli non so tipo prende dei pezzi delle storie dei giochi alla fine ok ok dobbiamo andare al piano di sopra eh penso oh c'è un forziere prenditi sempre i forzieri che sono trovati eh beh certo ci mancherebbe 25g secondo me 25g secondo me ci sarà un forziere che farà partire un jumpscare che dio mio si salteremo in aria allora forse dobbiamo andare su si vai su ok c'è tipo una stanza con uno scheletto una però raga la grafica è fatta da dio no veramente però siamo in questo stand è il buri da live è vero mi parte la battaglia col buri da live è fatto troppo guardati da tripla ah no è vero che il brito live consiste nella white hand e nel ghost cazzo ma come lo pare il burbassaur io faccio lì il pursuit eh boh provo ah su chi tu pari da live tu pari da live infatti minchia eh ho un est è un bar e porca troia si ma il mio pacco una un po' troppa vita però si ma guarda che abbiamo tantissimi ps ma appunto non è un po' troppo una volta ucciso il brito live vogliono tutti e tre si spera sì sì credo di sì tanto non ci tolgono niente abbiamo 1300 ps ma infatti adesso vedi critical hit ci sciolta ma scusa se ti faccio pound oh ti ho fatto un bordello io eh no poi non ha effetto è tipo spettro no ha effetto ma fa poco eh vabbè io l'ho ucciso comunque eh io sto arrivando solo che sono abituato al velocizio perfetto ragazzi ma qui li uccidendo ah no non muoiono gli altri due eh infatti devi buttar giù anche loro che sbatti eh vabbè io voglio dire white hand va mi sembra quella più scarsa oh io sono uscito qui però non c'hanno la vita giù eh come non c'hanno la vita eh non c'hanno la vita io non vedo la vita del buried alive cioè della white hand te la vedi? no non è che sono immortali aspetta 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 ma perché non muoiono eh eh effettivamente io l'ho già fatto quattro attacchi eh io ho già fatto attacchi poi massimo provo a fuggire io eh eh vediamo se funziona eh ma non muore no non ci fa fuggire si serio? si ma non muo ok ghost è morto perfetto ok ok allora muoiono quattro attacchi si quattro attacchi do meno area paralyze attack cos'è? eh paralyze attack sarà minchia 115 di danno gli ho tolto l'ucce di giorno poi paralyze attack ok da me è morto subito ok ghost tre chiavi sono state trovate ok minchia 131 danni Io pensavo paralizzasse Eh però io Aspetta no mi sa che dobbiamo uscire allora Mi è trovato tre chiavi forse la porta lì Eh io sono ritornato Dove eravamo prima Guarda si è sbloccata la porta C'è una nave qua C'è una nave chiama la nave Una barchetta Ci sei qua Ho sbagliato Cos'hai che hai fatto? Sono ritornato dove eravamo prima dal Barry the Alive Come? Ho sbagliato E mo? Mo son cazzi mi sa eh Non riesci a uscire? Eh no Ma dov'è che sei andato di preciso? Dov'è? No mi sa che devo resettare Dov'è che sei andato di preciso Fra? Secondo Nella stanza del Barry the Alive sono ritornato io Eh ma non potevi uscire Eh mi ha fatto riuscire ma sono ritornato dentro per sbaglio Ma perché? Eh sono un coglione Quindi li stai risfidando ancora? No eh non c'è più Eh prova a uscire scusami Eh non mi fa uscire sono rimasto qua dentro intrappolato Aspè provo anch'io tanto salvato Al massimo stoppiamo l'episodio qua Eh ma non è finito eh Eh vabbè non possiamo fare un video di 40 minuti però Aspè provo vedo cosa Eh no doveva resettare giù per forza Eh hai ragione sì Vabbè ok Abbiamo battuto il Barry the Alive e quindi adesso proseguiamo in questo Dov'è che dovevamo andare? Eh praticamente dove c'era la porta C'è questa tipo Vabbè chiama la barca La marchetta Un Anche la barca No che figata Oddio possiamo comandarlo a noi Aspetti io mi faccio un giretto però Esatto non è Ma si può sparare no E la madonna pure sparare Eh il nightmare potevi Sì vabbè ma non è nightmare That's right Ok mi sa che dobbiamo andare giù però Ti va tanto c'è un cazzo in giro Tipo uomo esploriamo l'acqua Non è nightmare che trovavi le cose Così a random Gente che ti spaccava dalle finestre Sei andato giù vero? Come giù? Sto andando sempre dritto No vai giù Sto piangendo Perché? Ma è tutto bloccato Vai giù Ah no Devi andar giù Ti è apparsa la scritta Fine del capitolo 1? No A me si Ma come insomma No vabbè al massimo La leghiamo La leghiamo sì 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 vieni che è un minuto di parte Se no mi sembra Presa per il culo Ok Ma giù dove? Io sono sempre qua Allora prendi la barchetta E vai giù Giù A sud no? Eh a sud E c'è Ah ecco Una concavazione Non so come cazzo C'è End of chapter 1 Eh vabbè niente Fail Aspera ma non è finito Chapter 2 Even Orel Aspera raga Finiamo qua Concludiamo qui Sì Vabbè Raga allora Sì questo Adesso voi Vedrete l'introduzione tagliata Perché la leghiamo Al primo episodio Perché come potete vedere Siamo a due minuti E mi sembra un po' Improbabile caricare un video Così Quindi Speriamo che questo episodio Vi sia piaciuto Noi vi aspettiamo Settimana prossima Con il secondo capitolo E mi raccomando Rimanete sintonizzati Ciao Bye 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 bye